Una corsa senza gioco, riconosciuta a Asi, sulla distanza dei 1200 metri. Partenza con autostart. Sono in sei concorrenti al via, l'uno Mr. Naglou, il due Indio Jet, il tre Esmeralda Jet, il quattro Pascialest al cinque rumbo di cannone e dal sei Prussia. Con cautela proprio Prussia. Chiusura delle ali, la rottura di Mr. Naglou, assume l'iniziativa Indio Jet, nei confronti di Pascialest al rombo di cannone, a largo interviene Esmeralda Jet, poi rimesto Mr. Naglou e Prussia. I cavalli superano il traguardo, anzi i poli. Indio Jet è leader al ritmo di comodo. Ha sprecato poche energie nel lancio. Indio Jet e adesso controlla l'avanzata di Esmeralda Jet, poi lungo i paletti Pascialest. In terza posizione alla corda Mr. Naglou, a largo rumbo di cannone, chiude Prussia. Indio Jet ha respinto un primo attacco di Esmeralda, primo quarto in 34 e mezzo. Indio Jet con Gennaro Rega a comandare le operazioni. Ai suoi fianchi Esmeralda Jet, lungo i paletti, guadagna Pascialest. Seicento in cinquanta, adesso Indio Jet viene attaccato a fondo da Esmeralda Jet, poi Pascialest. Allì stanno per entrare in dirittura d'arrivo, anzi i poli, con Indio Jet che allunga e controlla gli avversari. C'è lotta solo per la seconda moneta che con Esmeralda Jet che alla grande, dopo percorso esterno, torna ad avvicinare il leader, ma si avvicina anche il traguardo. Due, tre, cinque, l'arrivo dei primi tre. Si afferma Indio Jet, interpretato al meglio da Gennaro Rega. Al secondo, Esmeralda Jet con Antonio Veneroso, incomiabile Esmeralda che ha girato a largo. Al terzo, rumbo di cannone con Eugenio Perrotta. Al quarto, Mister Naglou con Rosario Cozzolino. Al quinto, rumbo...